domani vado al bunker ad ascoltare il reato prevede 15 anni di galera poi non so se i 15 anni di catania si potrebbero sommare a quelli di palermo così facciamo cifra tonda 30 sorrido per modo di dire però quando ho fatto il ministro sapevo di correre dei rischi così il leader della lega matteo salvini sul caso open arms alla vigilia dell'inizio dell'udienza preliminare di domani continuo a essere tranquillo aggiunto dispiaciuto perché ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro nei confronti di delinquenti veri però come tutti i cittadini italiani se sono chiamato in tribunale vado di solito un presunto colpevole rinnega ha sottolineato salvini che si trova a palermo io rivendico con orgoglio di aver salvato vite di avere difeso confini dignità e sicurezza i morti in mare sono aumentati dopo la mia uscita dal ministero non solo rifarei tutto ma lo rifarò ha poi sottolineato salvini lo dico in anticipo salvare vite combattere trafficanti di esseri umani proteggere i confini e la sicurezza di un paese sono un dovere di un ministro diciamo che almeno dopo un passaggio a catania passo a palermo dalla sicilia orientale alla sicilia occidentale ha aggiunto